Lo stato di salute del pino marittimo nella macchia lucchese tra Viareggio e Torre del Lago è definito preoccupante a causa della presenza di un parassita, la cucciniglia corticale del pino marittimo che mangia le cortecce dei pini facendo morire le piante. L'allarme è la stessa amministrazione comunale via reggina a lanciarlo e i primi rimedi per tamponare la difficile situazione sono già partiti. La pineta di Levante è stata aggredita da un insetto che si chiama Mazzococcus fedaia che mangia la legna sotto la corteccia e la maggior parte dei pini marittimi della pineta di Levante al ridosso del mare è stata di fatto già tutta consumata. Negli ultimi tempi è arrivato un altro insetto, una sorta di insetto necroforo che sta mangiando ciò che rimane dal lavoro svolto già dal Mazzococco e questo costituisce l'ipotesi di una sostanziale morte della pineta della Lecciona. 500 ettari nella città di Viareggio a confine con Torre del Lago quindi una realtà molto molto importante da ogni punto di vista paesaggistico, ambientale per la qualità dell'area della nostra atmosfera rischia di essere in condizioni disastrose. Quali sono i provvedimenti presi ad oggi per tutelare la pianta del pino? La prima è quella di tagliare gli alberi che sono stramazzati o che sono morti e portarli via. Noi a breve faremo una piccola gara riservata alle cooperative forestali che consentirà a costo zero per l'amministrazione di fare questo lavoro perché le ditte che vinceranno si ripagheranno con l'uso della legna. In secondo luogo abbiamo chiesto un finanziamento alla Regione Toscana sulle misure del piano di sviluppo rurale che non ci è stato ancora concesso. Speriamo che la Regione faccia un terzo bando specifico per quelle pinete, per quei territori, per quei boschi, per quelle superfici boscate che hanno un problema di fitopatologie. Grazie.